Alice for Children, da dieci anni in Kenya, nelle baraccopoli di Nairobi. 2500 bambini aiutati e 800.000 pasti distribuiti ogni anno. Due orfanotrofi, tre scuole primarie con 1800 studenti. Anche Richard è volato a Nairobi per dare un aiuto concreto ai bambini orfani in Africa. Richard, Missione Africa, dal 10 maggio al cinema.